La via Arco Speciale Il Comune da ormai due settimane ha emanato un'ordinanza per stabilire, oltre all'intransitabilità della carreggiata interessata, un percorso alternativo sia per i veicoli che per i pedoni. La chiusura della strada si rende necessaria a causa di un distacco di parti di un edificio, come ha già testualmente spiegato nell'ordinanza il Comandante della Polizia Municipale Giuseppe Fazio, il quale ha dichiarato che, dopo l'intervento dei vigili del fuoco, non si è ancora a conoscenza dell'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza dell'immobile che risulta non abitato. Questa mattina il Comandante Fazio ha detto che non si hanno ancora concreti aggiornamenti sulla situazione e che si sa soltanto che se ne sta occupando l'Ufficio di Protezione Civile Comunale nel tentativo di risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Nel frattempo l'ordinanza stabilisce per tutti i veicoli lungo il vicolo Rotunda l'istituzione temporanea di Senso Unico Ovest-Est e in via Laurana di Senso Unico Nord-Sud. Il Comune di fatti si è attivato per consentire un collegamento attraverso il tratto di via Torquato Tasso ad est della via Mendola. In queste immagini vediamo le strade interessate che fanno parte di un quartiere densamente abitato e i cui i residenti e gli esercenti e attività commerciali della zona nel frattempo lamentano disagi. Inoltre l'impercorribilità della via Arco Speciale condiziona le operazioni di raccolta dei rifiuti. Il transito in questa strada è infatti temporaneamente vietato a tutti i veicoli e pedoni compresi i mezzi e il personale della nettezza urbana. Grazie a tutti. Grazie.